Secondo me Matteo non ti aspetti una pescata come intendo io. 10? Penso di sì. Guarda che ci sono stato a pescare in mare, non tante volte. Lo so, lo so, ma io ti posso garantire che potrà succedere che te diventi matto. Eccola, guarda, guarda! No! Eccola! Eccola! No! Dai che ti è arrivato! Eccola! 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 See? Eccola, cutie! Vediamo immuno... Per ora niente Se oggi va male Mi dispiace Io con te Non ci vengo più a pescare Ok Qua la mano Esatto Se oggi invece va bene Ti porto io Non mi posso Ecco bravo Quella cosa famosa Ok bravo Se si muovono in fretta Eh ma è Se con proprio il branco Vai vai Ci sono Sono proprio Sono proprio Alletterati Dove 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 Eh la c'ho aspettato Di rivederli Vediamo un po' Perché cavolo Ti partono lì Ti partono là Ti partono qua È tutto così Guardali 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 Sono la puge Sono la puge queste Sono la puge La prima mangianza Ma a te No Parca Questa qui Sono la puge Sono la puge Niente Niente andiamo a pigliare due lampuche Vai Mi ha rotto i c***i Mi reboglio i picchialli Maledetti Ma a te Prima mangianza a vuoto Te l'ho detto che sono cattivi questi qua Come ti avvicini Subito giù Io ci ho provato a lanciarli sopra Però O non ho il manico No Non c'entra nulla Ti ho detto che questi qui sono alletterati Sono difficili Molto difficili Ho visto Brutti i clienti Ho visto Ho visto Ho visto Ho visto Lì bello dove sono? Oh Oh Guardali Se arriva Che sale che c'è Oddio Sono dritto a me Vai Matte, andiamo Dave. Iniziamo a vedere se si riesce a prendere subito di qualche lampu. Eccola, eccola. Vai, perfetto. Grande! Oh, ma che belle! Hai visto? Che tavolo detto? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Buongiorno con il salto! Guarda, guarda! Nooo! Dai, dai! Eccola! Guarda, guarda che salto! Vai, bella! Oh, cavolo! Eccola, eccola! Tu un po' in molla, tu un po' in molla! Vai, vai, vai! E lì sotto ce n'è una! Guarda quante ce n'è qua sotto! Guarda quante ce n'è! Guarda che salto lo salto! Oh, oh, oh! Che salto hai fatto! Ma guardala lì! Sono lì comunque! Guarda quante questo sarà lì! Eccola! 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 Che pesce bene! Vai! Cacchio! Caccata al volo! Grande! No, non ce n'è! Davide è bellissimo! Ti piace? Sì, stufero! Come strizione! Vero! L'hai vista? L'hai vista? No, no! Uh! L'hai vista? Sì, ora sì! Uh! Che spettacolo! Ah, che spettacolo! Guarda qua! Guarda qua! Guarda che bella! Che coloriano! Io non riesco a chiedere... Perché? Perché? Cos'è? Cos'ho fatto di buono? Eh, eh! Perché l'hai importato a me? Cioè, ma è bellissimo! Eccola! Bella! Bella! Wow! Vai! Vai! Quattatone! Eccola! Senti se va! Bravissimo! Bello! Ma che pesce sarà? Eh! Al volo! Brava! Tattuola! La canna che te... Lo senti bene nella canna? Sì, sì, sì! Oh, questa... è tremenda! Eh! Oh, io te le sto tenendo tutte sotto, eh! Ma te agganciale! Sì, sì! Fai pure il fenomeno! Fai pure il fenomeno! Sì, sì! Fai pure il fenomeno! In questa fase di slamatura siamo più veloci e facciamo pochissimo male al pesce! Cosa importantissima! Ma questa è se stanno... Eccola! Eccola! Woohoo! Ehi! E che cos'è quello? Che è speedy questa? Eeeh! Wow! Fish on! Ma che pesca! È divertente! È divertente, eh! Divertentissimo! Eh sì! Divertentissimo! Guarda là! Guarda che colori stupendi! Oh, io se Matteo non è contento, non so quel che fare, non ce lo porto più, perché sinceramente è una giornata come quella di oggi. Dove la ritroviamo? Sai cosa c'è, Davide? Mi sa che questa settimana io ci vado poco a lavorare. Aspetto che arrivi in Libeccio, ma prima del Libeccio veniamo sempre... Sempre all'Ampughe! Voi non potete capire cos'è! È pieno pari di lampughe! Butti giù, tre giri di mulinello, BOOM! Ti parte! È spettacolare! Spettacolare! Buona! Magari, devi provarla a prendere a galla! Sei proprio sulla... Eccola! Guarda, guarda, guarda! Eeeh! Hai visto? Eh? Questa è bellissima, eh! Oh, patente! Matteo! Prova! Ancora più bello! A galla? A galla! Lo fai saltare sul pello dell'acqua! Sì! Ci danni quelle botte! Ci danni le botte! Una cosa amicidiale! Poi anche questo è un bel pesce, mi sa! Guarda come... Guarda! Sì, sì! È una bella lampuga questa, cavolo! Eeeh! Bella! Questa è bella! Guarda bella! Questa è grossa! Questa è grossa! Guarda che bella! Guarda che pinna che c'ha! Sì, sì! Sì, sì! Sono meravigliosi! Sono veramente belli questi pesci! Sono veramente dei pesci spettacoli! Eccola! Guarda che pesce! Oh, Davide! Hai visto? Oh, oh! Guarda che pesce! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' presa? Non ci posso credere. Vedi come si slama bene? Un po' l'amo singolo. Matteo a me mi fa male il braccio. Io sono cotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, quella è bella. Eh sì. Perché ho messo un escapo più grosso, hai capito? Oh, ci ha mangiato in calata. Ha mangiato in calata questa. Mamma mia. Oh, questo è un bel pesce, ragazzi. A volo. Oh, questo è un bel pesce. Oh, Massimo, se te l'avevo detto. Te non mi vedrai resta. Ma hai fidato? No, non ne vedrai. No, non ne vedrai. Vai che me la segno questa. Dai, va là. No, non ne vedrai. Ah, non ne vedrai. ma io dico che meglio meglio di così non si poteva concludere la giornata abbiamo fatto tanti pesci ci siamo divertiti abbiamo fatti avuti di abbiamo fatti quei jingle ci mancava solo l'ondulante ed era una pescatina a trote la prossima volta si farà l'ondulante e pescheremo nell'amputrote mamma mia che colori buona 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 buona